Benvenuti, cari follower, a questo nuovo video, attraverso il quale vi informeremo sulle regioni e gli stati interessati dalla neve da domani, mercoledì 5 aprile 2023, fino a giovedì, e a quote molto basse, ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticare prima di supportare questo video con ammirazione in modo che raggiunga il maggior numero possibile di persone. Perché è un video molto importante e aiuterà le persone a evitare condizioni meteorologiche improvvise, quindi non lesinare su di noi con il supporto, e anche questo ci motiva a continuare con voi e a fornire di più se domani, mercoledì 5 aprile, sono previste forti nevicate nelle regioni del centro e anche del sud, a quote basse, con uno spessore localmente compreso tra i 5 e i 25 centimetri, nelle regioni meridionali le nevicate saranno nell'ordine tra i 600 e gli 800 metri, oltre a questa nevicata, sarà accompagnata da forti piogge che potranno essere a tratti anche temporalesche, pertanto si richiede prudenza e prudenza e con forza domani. Mercoledì, in tutte le regioni del centro sud Italia, e potremmo emettere bollettini di allerta e di urgenza nelle poche ore, pertanto domani, mercoledì, state allerta dal pericolo di nevicate un po' forti, nevicate a bassa quota, anche da forti piogge, e ogni altra importante novità che vi daremo comunicazione più tardi, durante la presentazione dei video, e che tu sia in buona salute.